Non cessa la pressione internazionale sulla giunta militare birmana che prosegue nella repressione delle proteste moltiplicando le accuse contro la presidente deposta Aung San Suu Kyi, che avrebbe accettato una tangente da 600 mila dollari. Aung San Suu Kyi era stata accusata di traffico illecito di walkie-talkie, di aver trasgredito al distanziamento sociale. I membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU hanno denunciato la violenza della giunta colpista. Anche Cina e Russia, tradizionalmente alleati dei generali birmani, non risparmiano critiche. Per il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, è fondamentale il rilascio dei prigionieri e il rispetto dell'esito delle elezioni, garantendo il ritorno alla democrazia. A Yangon, come in diverse altre città del paese, le manifestazioni sono quotidiane, nonostante paure, violenze, arresti e già una cinquantina di morti. La determinazione dei giovani resta intatta. Ieri, quando siamo stati affrontati dalle forze di polizia, non hanno usato i lacrimogeni. Hanno sparato brutalmente con le loro pistole, senza preavviso. Non abbiamo armi come loro. Hanno eseguito circa 20 arresti, compresi i manifestanti della prima linea, spiega una studentessa. Medici, insegnanti, dipendenti dell'azienda per l'elettricità, ferrovieri, molti dipendenti pubblici stanno bloccando il paese, ostacolando il golpe. Le forze di sicurezza hanno lanciato un raid contro i ferrovieri in sciopero. I ferrovieri sono fra i primi che hanno iniziato il movimento di disobbedienza civile.